Qual è la malattia di un paziente esperto? Ci stiamo approcciando adesso ai primi progetti di ricerca e questo corso per noi sarà importantissimo perché ovviamente ci siamo trovati catapultati in un ambiente che non conosciamo, non conoscevamo niente riguardo alle malattie genetiche rare, non conoscevamo niente relativamente ai progetti di ricerca scientifica, quindi non conoscevamo il processo di sviluppo di un farmaco. Adesso che abbiamo tutte queste nozioni sicuramente saremo in grado di valutare meglio su quali progetti di ricerca orientarci ed essere anche di supporto possibilmente ai ricercatori per quanto possibile, quindi ringrazio Eupati, ringrazio tutto il team che ci è stato di supporto in questi mesi, i relatori, grazie veramente a tutti perché è stato un percorso fondamentale. Grazie 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 Grazie